La Corte d'Appello di Bari ha revocato la confisca delle case di proprietà delle figlie di Antonio Di Cosola, il boss barese, capo dell'omonimo clan, da alcuni mesi sottoposto al regime del carcere duro, il 41 bis. Accogliendo il ricorso presentato dal difensore delle donne, l'avvocato Pino Giulitto, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bari a gennaio 2012, i giudici del secondo grado hanno ordinato la restituzione dei beni alle figlie del boss mai coinvolte in indagini sulla criminalità organizzata. Si tratta di due appartamenti in via Regina Margherita a Ceglie del Campo, alla periferia di Bari. In particolare la Corte d'Appello ha ritenuto che una delle due figlie, ora trentenne, sia sempre stata estranea al nucleo familiare di suo padre. Solo dopo il 2008, quando fu confiscata la casa del boss, Antonio Di Cosola insieme alla moglie e ad un altro figlio andarono a vivere nell'appartamento di proprietà della ragazza. Quanto all'altra figlia, oggi 27enne, i giudici della Corte d'Appello scrivono che nel 2006 si allontanò dal nucleo familiare e dopo essere andata ad abitare con i nonni materni ha acquistato da loro l'immobile mediante regolare mutuo bancario. La ragazza avrebbe un reddito lecito e dichiarato da lavoro dipendente. Non si rilevano, concludono i giudici, indizi sufficienti che possano far ritenere che i beni oggetto di confisca siano in tutto o in parte frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego.